Buongiorno e buon sabato 22 febbraio, sabato di calcio finalmente, sabato di pallone che rotola, sabato di Fiorentina Milan. Il Milan affronterà la Fiorentina con una formazione, dovrebbe essere quella con Donna Rumma, con Conti, preferito a Calabria, con Gabbia, preferito a Musacchio, per il resto Romagnoli, Teo Hernandez, la a centrocampo Castiglieco, con Ben Asser, con Cialanoglu che rientra, con Rebic e con Ibra Supremacy. Quindi questa è la formazione di un Milan che cercherà di rimontare, di recuperare il sesto posto, oggi occupato dal Napoli dopo la vittoria ieri 2-1 sul Brescia, a Napoli che legittima il suo bel rendimento tornando in alta posizione in classifica, non altissima ma si sa che sarà la più grande minaccia, il più grande avversario, con tutto il rispetto per Parma, per Verona, per il Bologna, per la lotta e per il Cagliari, per la lotta per il sesto posto, intanto per il sesto posto. Ma lasciatemi ringraziare gli antichi egizi, lasciatemi ringraziare gli antichi egizi che prendevano a calci un oggetto, gli antenati dei giocatori di calcio, poi si è tramandato, si parla di Nausicaa, giocassi con una palla, i discendenti Ming, cinesi, giocassero con la palla. Sembra che Cesare fosse bravo sia di destro che di sinistro, mentre Nerone fosse scarso. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno permesso, poi nel Medioevo, di poter arrivare al gioco del calcio. Vi voglio ringraziare perché con tutte le notizie pesanti, preoccupanti, quasi incredibili, quasi sorprendenti, non nessuno se le aspettava queste notizie che ci riguardano, riguardano tutti. Con tutte queste notizie, questi 90 minuti, queste notizie anche, tornando nel mondo del calcio, su queste presunte overe diatribe interne, lotte interne a casa Milan, tra Boba e Maldini e Gazzidis. E a proposito Gazzidis è andato a chiarire il pensiero della società, con un'intervista ieri è andato in Gazzetta dello Sport, ha parlato, ha parlato di un'unione di intenti, crederci, non crederci, ma noi sentiamo le parole di Gazzidis. Su Rangnick ha detto si sento una pletora di allenatori in questo periodo, molti sono convinti che in ogni caso, non l'accordo, il contatto con Rangnick ci sia stato. Però sono tutte cose che disturbano, che infastidiscono. Però arrivano i 90 minuti, arriva questo pallone che rotola, che ci fa dimenticare, ripeto, le brutte preoccupazioni, non solo sportive di queste ore, e saremo concentrati tutti su questo benedetto pallone che rotola. Io sarò a Firenze, con mia moglie, mio figlio, in curva, con gli amici, e lì saremo tutti concentrati, tifosi del Milan, tifosi della Fiorentina, concentrati su quella palla. E quindi per fortuna dimenticheremo tutto in quei 90 minuti. Questa è la magia, la grande magia, il grande fascino del pallone. E lì siamo tutti fratelli, non c'entra la maglia dell'Inter, della Juventus, della Fiorentina. Lì siamo tutti concentrati su quella palla che rotola. Tutti lì, tutti tifosi, tutti abbracciati con maglie diverse. E quindi ringrazio proprio chi ci ha tramandato questo gioco, che, ripeto, è come una meravigliosa alchimia di emozioni, di paure, di speranze durante i 90 minuti. E sono quelli che ci intrigano, che ci fanno passare veramente dei momenti felici. In quel momento saremo, per fortuna, gioco forza, concentrati solo su quello. Tutto il resto è lontano. E quindi oggi, ripeto, sarò a Firenze, sarò concentrato su quella, su quella magica sfera rotonda. E mi auguro che anche voi dimentichiate tutto tifando per il Milan, per la Fiorentina, domani per le vostre squadre. Perché abbiamo bisogno proprio di disintossicarsi, di vivere 90 minuti. Andiamo allo stadio. Lì è come una barca meravigliosa che va su un mare, che ci porta lontano da tutto. Meno male che esiste il gioco del calcio. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.